Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il rapper Fedez ha risposto al dissing di Tony F. con il brano Chiara, in cui vengono lanciate accuse pesanti nei confronti del collega. Fedez ha replicato con una frecciata sul fatto che i bambini non si toccano, riferendosi ai figli di Chiara Ferragni, tirati in ballo da Tony F. nel testo della canzone. La stessa Chiara Ferragni ha preso posizione su Instagram chiedendo di lasciare in pace lei e i suoi figli. Inoltre, sembra che Chiara Ferragni sia rimasta particolarmente infastidita da un audio con la sua voce, presente in una versione del brano di Tony F., che è stata diffusa per errore e poi cancellata. Anche una strofa che parlava del figlio maggiore di Chiara, Leone, era stata modificata in una versione più pesante. Tony F., nel brano Chiara, accusa Fedez di aver abbandonato la moglie nel momento del bisogno e di aver fatto i figli solo per postarli sui social. Fedez ha replicato al rapper romano con una frecciata sul fatto che i bambini non si toccano, lasciando intendere che Tony F. ha superato i limiti. Dopo questa risposta, il silenzio è calato, ma è probabile che il botte risposta tra i due non sia ancora finito. Chiara Ferragni ha chiesto di lasciare in pace lei e i suoi figli, mentre Tony F. ha continuato con le accuse pesanti nei confronti di Fedez. La noquazione sembra essere molto tesa e potente... ...